Sola, semplice nel suo essere evocativa di un anno difficile che ha cambiato il vivere dell'intero pianeta caratterizza il calendario 2021 del corpo militare della Croce Rossa italiana. Questi sanitari e logisti con le stellette sono stati fortemente impegnati accanto ai medici ed infermieri civili sul fronte del covid fin dai primissimi casi che avevano gettato il paese nel terrore e nel caos dovuto all'inaspettato confronto con la pandemia. La malattia ora si conosce e si teme con consapevolezza ma nei primi momenti dove gli uomini del corpo sono stati mobilitati lo spettro aleggiava come presagio di morte con quelle file di ambulanze fuori dagli ospedali ed altre colonne che portavano via le bare ai crematoi. Anche lì la Croce Rossa militare in un compito pietoso ha dovuto lavorare per lo stoccaggio e il mantenimento delle bare. Il fronteggiare il virus di questi militari come dei medici e degli infermieri di tanti ospedali ha permesso di superare situazioni difficili consentendo al paese una vita il più possibile vicino alla normalità. Un grande impegno quello del personale del corpo militare in questa grave emergenza che lo ha visto impegnato sin dai primi momenti con personale sanitario presso le strutture ospedaliere come l'ospedale Giovanni XXIII di Bergamo piuttosto che come ad esempio a Fondi dove ha contribuito a garantire il rifornimento agroalimentare a gran parte del centro Italia. Il calendario racconta con discrezione e senza tristezze un anno che rimarrà nella memoria e che già ci fa sperare nel futuro.